Gli indisponibili rientra Bozic, Bozic e poi c'è solamente Pompetti, il resto stanno bene e quindi ho diviso a quattro. È una domanda troppo dettagliata, noi abbiamo fatto in un modo in queste sei partite e anche in un altro modo, o prima o dopo o dall'inizio o successivamente, abbiamo cambiato, quindi non capisco quale possa essere la novità, non la vedo la novità, se novità si può dire. Queste sei partite abbiamo alternato diverse cose secondo le esigenze della partita, secondo chi stava meglio e quindi non c'è nessuna novità. Paolo? Buonasera mister, volevo chiedere alla luce anche di quello che è accaduto qualche giorno fa con la positiva attività di un giocatore, insomma che settimana è stata, questa è stata un po' più complicata perché ovviamente ci sono stati e ci sono ancora dei problemi. Ma guardi siamo tornati martedì notte, quindi mercoledì mattinata, chiaramente il mercoledì chi aveva giocato anche perché la seconda partita non ha lavorato, non si è allenato, ha riposato, si è allenato soltanto chi ha preso parte poco alla gara o per niente. non possiamo andare neanche in ritiro, le regole le hanno fatte, sembrano sciocche perché sembrano sciocche, però stabiliscono questo. Abbiamo fatto due tamponi negativi, siamo tutti vaccinati, c'è stato un episodio, ma fortunatamente è tutto chiuso, qualche problema ce l'hanno creato perché facciamo fatica anche a vedere dei video insieme, però non sono cose determinanti, sono fastidi che però non peseranno nell'economia della gara e non peseranno nella partita di domani, però è chiaro che sono di fastidi. La continuità è l'arma vincente per vincere questo campionato per lei, nonostante magari prestazioni non esaltanti come ha detto lei anche in altre partite? Sono d'accordo, la partita di Gubbio abbiamo fatto errori che non appartengono al valore di questo gruppo, in queste partite sotto alcuni aspetti abbiamo commesso degli errori, errori di tipo individuale che per il livello di questo gruppo, ma che possono avvenire in una partita di calcio, i giocatori di calcio, nessuno è infallibile, si sbagliano anche i calci di vigore in una finale mondiale, giocatori di grande livello, quindi qualche errore l'abbiamo commesso, ma detto questo non è che noi abbiamo rubato i punti a nessuno, anzi, chiaro che ci siamo a volte complicati la vita, ma questa è una squadra che ha valore, che ha contenuti, che ha un modello organizzativo importante, che cerca di imporre gioco e che sta facendo bene, per cui adesso noi non abbiamo vinto la partita di Gubbio, che è una squadra tosta, difficile da affrontare, l'abbiamo recuperata e praticamente abbiamo fatto due, tre errori madornali in cui abbiamo concesso dei vantaggi a loro, è tutto qui, però questa è una squadra che sta bene, che è in salute, poi dopo ognuno la può vedere come crede, io non sono abituato a tracciare linee definitive dopo sei partite di campionato, colgo gli aspetti positivi, ma per abitudine li metto da parte, e ce ne sono tanti, per abitudine li mettono da parte, poi voglio soltanto sottolineare quello di non giusto, che facciamo, che a volte ha compromesso neanche delle gare, le ha messe in salita, le ha messe in difficoltà, però poi la prestazione c'è sempre, poi chiaramente potremmo fare sempre 10 palle con la partita, soprattutto quando la devi recuperare la partita, è normale che l'avversario si chiude sempre di più, un po' per il nostro atteggiamento e quindi diventa difficile creare, però quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, a parte alcuni aspetti di cui ho parlato prima, che sono gli errori che non appartengono ai valori e ai contenuti di questo gruppo. Clemenza ha fatto bene, è rientrato dopo un problema in allenamento, una distorsione alla capiglia, conseguenza di un contrasto duro, come un ragazzo della primavera, una quindicina di giorni fa, ha avuto la sua opportunità e ce ne saranno tante altre, lui come tutti gli altri devono essere giocatori pronti e disponibili a fare che, non a fare le cortesie a me o a lei, a onorare la maglia che è la cosa fondamentale, poi c'è chi dovrà scegliere e questo è uno dei compiti dell'allenatore e quindi dall'inizio o dopo cambia poco. Allora mister, parliamo anche ovviamente dell'avversario di turno, questa reggiana che adesso al di là della classifica che dopo sei giornate ha un valore molto molto relativo, molti dicono però che questa sia la squadra per valori tecnici la squadra più forte del campionato, insomma vorrei un suo giudizio sulla reggiana, insomma che squadra vi aspettate domani all'Adriatico, una squadra che tra l'altro ha subito pochissime reti, una. Delle caratteristiche la reggiana, dopo sei partite si trova davanti, non è che le partite che ha vinto le ha vinte perché ha fatto passerella oppure le ha vinte soffrendo come è normale che sia, alcuni non le ha vinte, ad esempio non ha vinto, però questi raffronti valgono veramente poco, non ha vinto con l'avversario che abbiamo affrontato noi tre giorni fa, con il partita ha una propria storia, la reggiana è una squadra importante, è una squadra che ha investito, che sta facendo bene, che ha determinate caratteristiche che noi sappiamo però, è una delle squadre di carattura più importanti ma non li vogliamo confrontarci, guardate che è sempre il campo quello che determina alla fine i valori, quindi in teoria uno può dire tante cose, certo che la reggiana abbia giocatori esperti, importanti, di caratura tecnica elevata, un modello di gioco organizzato, importante, ma non credo che siamo solo noi e la reggiana, sono tante altre squadre in questo girone, un torneo lungo, lunghissimo, la continuità sarà fondamentale e poi la voglia di affrontare di ispirare gli avversari e ogni partita ha una propria dimensione, perché chiaramente la partita, faccio un esempio che abbiamo fatto con la vispesora in casa, praticamente si sviluppa in un modo, quella di domani si potrà sviluppare in un altro modo, altre in un modo diverso, bisogna avere tante facce, la classifica neanche io la guardo adesso come la guardavo prima, non è il tempo di guardare la classifica, piuttosto è il tempo di guardare le prestazioni e domani è una partita importante da questo punto di vista, il raffronto con un avversario di livello elevato come noi, vedremo quello che avverrà.